E voi che cazzo vuoi? Ma tu che cazzo vuoi? Ma te che cazzo fai dentro la barca mia? Ma che cazzo dici? Vedi che c'è la signora qua, che è la maniera di parlare? Scusa! Scusate, mi hanno sentito molto male come quando una si sviene a causa di uno sturbo e ho sentito il bisogno di riposarmi un po'. Prego signora, da questa parte, venga. Grazie. Ah signor, sei sturbata senza mutanne!